bisogna raddoppiare palla dietro attenzione madonna mia evita un avversario con un grande ritmo che poi viene braccato non lo lascia proseguire aveva le mani sul braccio attenzione azione gol del Castrovillero il contropiede e Giacco che si allentava dalla porta meno male aveva la palla sul sinistro poteva battere a rete, era un po' angolato attenzione parte cosa, azione regolare cosa cosa, quanto il partiere, cosa viene spinto all'ultimo momento recupera il portiere Jofrida